Inette è una tenda a rullo da design, nata per applicazioni sia in abitazioni che in uffici, in ambienti pubblici. Hanno dei design molto ricercati e un'ampia gamma di tessuti. Ma la cosa più particolare dei Linette è il grado di qualità delle lavorazioni sulle testate, come ad esempio la lucidatura o la satinatura, che vengono effettuate pezzo per pezzo, singolarmente e a mano da un operatore. È un design studiato con geometrie particolari applicato ad una progettazione meccanica. Le applicazioni delle tende Linette sono diverse, come quelle a motore o a catena con richiamo automatico di risalita. È rigoroso il controllo di qualità che viene fatto su queste superfici, perché è richiesto dal design. In ambienti abitativi, ma anche in ambienti un po' più particolari, come loft o studi di progettazione, ambienti che necessitano di un design o di un tocco di qualità in più. Grande novità per Linette per il 2012 è la nuova cartella tessuti. All'interno troverete tessuti nifughi e tessuti naturali. I tessuti abbinati a Linette possono essere ombreggianti, oscuranti e tessuti di fibre naturali. La cosa che mi ha ispirato per il design e la forma di Linette è stato uscire un po' dal canone di progettazione. Per quanto riguarda le tende a rullo, oramai nel mercato è già noto il funzionamento e la meccanica dei componenti. La mia invenzione è stata proprio applicare una forma particolare e una linea semplice a questi prodotti. Abbiamo pensato e ho pensato a delle testate che potevano rispecchiare delle forme comuni, come possono essere un quadrifoglio, come possono essere dei gemelli. L'utilizzo sicuramente di materiali idonei mi ha aiutato ad avere queste idee particolari. L'acciaio è una scelta per motivi estetici e di qualità. L'acciaio inox è un materiale con delle caratteristiche meccaniche particolari come resistenza. L'acciaio inox è un materiale non facile da lavorare, ma una volta lavorato ha delle caratteristiche che è indiscutibile con altri materiali. Un acciaio inox lucidato non può essere mai paragonato ad una banale cromatura. Un acciaio inox satinato è naturale. Si vede l'utilizzo della mano dell'uomo, cosa che in altri materiali non è percepibile. L'acciaio inox è un materiale non è un materiale non è un materiale, ma è un materiale non è un materiale. L'acciaio inox è un materiale non è un materiale. L'acciaio inox è un materiale non è un materiale non è un materiale. Inox è un materiale non è un materiale non è un materiale, ma è un materiale. L'acciaio inox è un materiale non è un materiale non è un materiale. L'acciaio inox è un materiale non è un materiale. L'acciaio inox è un materiale non è un materiale non è un materiale. Questo è un materiale non è un materiale non è un materiale non è un materiale. L'acciaio inox è un materiale non è un materiale. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.